Grazie signora Presidente, signora Presidente Meloni, onorevoli colleghi e colleghe. Io penso, ho letto e riletto oggi l'intervento della Premier Meloni e con il massimo rispetto ne ho intravisto una grande lezione di pavidità. Quella pavidità che oggi ci ha portato e ha portato la Premier a parlare della crisi medio orientale in una modalità che dimentica ciò che è stata la Giorgia Meloni prima che diventasse Premier. Una mutazione, devo dire, forte dal punto di vista politico e questo si iscrive ovviamente proprio in quello che ho appena detto. Quando il Ministro Corsetto in conferenza stampa alcuni giorni fa ha chiaramente condannato l'attacco di Israele a ripostazioni Unifil parlando di crimini di guerra e di violazione del diritto internazionale noi abbiamo sostenuto quella posizione come abbiamo sostenuto la posizione della Premier Meloni che ha sostenuto quello che ha detto il Ministro Corsetto. Però signora Presidente Meloni, che mi ascolterà, ma lei può spiegare non ad Alleanza Verdi e Sinistra, agli italiani e alle italiane perché gli attacchi alle postazioni ONU sono crimini di guerra e violazione del diritto internazionale e noi siamo d'accordo e invece lo sterminio di 42.000 civili, di 2.000 libanesi, l'aver raso al suolo la rete sanitaria idrica di Gaza non è un crimine di guerra. Signora Presidente Meloni, perché non ha il coraggio di pronunciare questa parola, di dirlo con forza per far valere il diritto della vita rispetto a questa volontà da parte di Netanyahu di costruire una supremazia militare in quello scenario. Per noi è un fatto inaccettabile, è un doppio standard che non lo accettiamo, mai lo accetteremo, ma avvisiamo anche coloro i quali, anche la stessa Premier Meloni, di non utilizzare l'accusa dell'antisemitismo nei confronti di coloro i quali si battono per il diritto alla vita, per il popolo israiano, per il popolo palestinese e per il popolo libanese. Perché, guardate, oggi non c'è per neggior nemico delle ragioni del popolo israele e questo peggior nemico si chiama Benjamin Netanyahu, che sta commettendo atti criminali assolutamente inaccettabili. La Premier Meloni diceva, rivolgendosi al collega Fratoianni, ma riconoscere lo Stato di Palestina non risolve. Ma chi l'ha detto? Il 70% dei Paesi membri dell'ONU hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Perché se si parla di due Stati e due popoli, uno c'è, l'altro non c'è, e quindi bisogna andare in quella direzione, ma bisogna avere il coraggio che costruire una supremazia militare per mandare via, perché questa è la strategia di Netanyahu, mandare via i palestinesi da Gaza, disperderli ulteriormente, occupare, costruire una grande Israele. Non è un problema solo di sicurezza dello Stato di Israele, ma è un problema ben più grande quello di costruire un nuovo ordine in quello scacchiere geopolitico. E noi dobbiamo essere silenti come questo governo è stato silente rispetto alla violazione del diritto internazionale quando alcuni mesi fa Israele ha deciso di annettersi illegalmente 12,7 km2 di territorio palestinese in Cisjordania, nel silenzio del governo italiano. E allora, vede, per questo noi diciamo stop alle armi. Guardate che Otto Melara ha dato cannoni prima del 7 di ottobre all'esercito israeliano. Dopodiché Otto Melara, attraverso ovviamente il controllo del governo italiano, ha continuato a produrre i cannoni che sono andati agli Stati Uniti e che attraverso una triangolazione comprati poi dall'esercito israeliano. Perché non si ha il coraggio, Premier Meloni, di dire che l'Europa dica stop alla vendita delle armi israeliani? L'hanno detto i francesi, l'hanno detto gli spagnoli. Perché il governo italiano ha detto no da questo punto di vista? C'è una questione molto importante, e qui la ribadiamo, che è quella di rimettere al centro la questione della vita, della pace, perché da oltre due anni il ruolo delle armi, la logica delle armi ci sta portando nello scenario che abbiamo visto, un'escalation che ha portato a 2.500 miliardi di dollari il riarmo.